buongiorno a tutti da valerio rossi di vr finanza smart education school oggi 6 dicembre 2023 ore 11 e 14 vediamo subito l'aggiornamento per quanto riguarda il mercato delle credito valute e in particolare ovviamente prenderemo a vedere uno specifico bitcoin in particolare allora è la cosa più interessante da questo punto di vista è ovviamente la dominance di bitcoin che ha addirittura superato i livelli precedenti siamo al 53,7 per cento del mercato è fatto solamente da bitcoin che ha una capitalizzazione complessiva ad adesso di 862 miliardi circa di capitalizzazione singola per proprio per quanto riguarda bitcoin ma la cosa interessante sono ovviamente il la capitalizzazione del mercato che addirittura si avvicina intorno al 1700 miliardi 1600 rotti miliardi di capitalizzazione complessiva tutto il mercato di riferimento ma è importante anche guardare questo indice che è estremamente extreme grid quindi estrema fiducia diciamo appeal per quanto riguarda il mercato e questo viene semplicemente confermato per quanto riguarda proprio il prezzo il prezzo come vedete bitcoin è di nuovo salito sopra i 44 mila dollari con un rialzo frazionale l'ultima settimana del 15 per cento e tiri un leggermente inferiore però siamo intorno al 10 per cento e qui e poi se andiamo a scorrere naturalmente tutte le altre principali credito valute caldano per esempio piuttosto che questa avalanche che mi fa un più 23 per cento addirittura e a scendere ovviamente con quelle di near 26 per cento sempre su base settimanale naturalmente e celestia fx token render ce ne sono ovviamente di terra classica ovviamente sta recuperando terreno perduto naturalmente però ecco guardate questa qua addirittura ordi 114 per cento in una settimana però siamo al sessantesimo posto con una capitalizzazione decisamente inferiore a quello che sono le principali credito valute specifico andiamo un attimino su uno sguardo per quanto riguarda bitcoin come vedete 44 43 978 quindi a ridosso di nuovo 44 sta tentando ovviamente di confermare questo ultimo movimento che c'è stato appunto ieri intorno ai 16 che ha creato movimento rialzista e di conferma per quanto riguarda coso che siamo partiti qui vedete a ridasso di 42 mila circa e siamo arrivati addirittura ieri a 44 mila e 500 circa ecco adesso sta riproponendo ha fatto ovviamente una correzione adesso sta riprendendo il trend nel mio periodo che rimane inalterattamente rialzista e in un altro sguardo in maniera più così distribuita di credito valute che sono ovviamente nel mio paniere di quelli che sono le cripto che io preferisco che sono evidentemente bitcoin in primis ethereum solana axia infinity matic poligon matic e ape che questo è nel campo degli nft la cosa interessante come vedete solana che continua a macinare per ecco su record perché ovviamente ha un protocollo che si sta rivelando veramente interessante che ha l'attenzione ovviamente degli investitori ma anche degli utilizzatori finali un ultimo sguardo alla naturalmente sempre in termini di dati a questo sito simpatico diciamo così che ha una visione dal punto di vista grafica diversa dal solito e che appunto crypto bubbles punto net che rappresenta dal punto di vista grafico una forma così di eccolo qui come vedete le bolle famose bolle e in questa giornata addirittura come potete vedere ci sono delle delle critto ovviamente di minore importanza con questa hnt piuttosto btt 49 40 per cento d'oggi stesso tornato macinare più 16 avax più 17 questo bim 18 per cento ovviamente c'è anche bdc qui che è piccolino più 5,4 ma ovviamente ha un'importanza una solidità e una capitalizzazione che decisamente un punto di riferimento assoluto solana potete vedere più 8,6 se portiamo l'osservazione a livello settimanale cambia ovviamente la prospettiva però troviamo sempre questa ordi che abbiamo visto prima più il 128 per cento che ovviamente al tempo che trova perché sono sempre per il credito diciamo stagionali chiamiamola così ecco mentre se spostiamo ancora di più l'osservazione a livello di mese ecco che anche questa ordi riprende così riappare con una percentuale veramente incredibile il 500 per cento e per poi finire ovviamente con l'osservazione annuale e di nuovo troviamo sempre primo posto cassa che è così ha sempre dato negli ultimi 12 14 15 mesi grandi soddisfazioni proprio investitore cfx però in j anche questi run rn dr stessa solana come vedete e qui parliamo di diciamo famose blue chip delle credito valute più 365 direi assolutamente normale ma la cosa più interessante questo ultimo dato che vi do per chiudere diciamo questa breve analisi è questo bitcoin questa da aggiornare è riuscita ovviamente negli ultimi giorni addirittura a scalare come vedete avete visto la schermata precedente che era non opposto adesso al decimo posto scusate adesso non opposto ha superato come capitalizzazione addirittura meta platform cioè facebook e sta tentando ovviamente di andare a raggiungere nvidia che è una società che si occupa di schede grafiche per i computer la più una delle più utilizzate a livello mondiale nei principali computer del mondo quindi è un dato anche qui estremamente interessante e quindi voglio dire il mercato come potete vedere torniamo un attimo super market cap e questo l'indicatore l'indicatore estremamente positivo volumi in aumento del 2 48 per cento capitalizzazione addirittura in aumento del 4 27 che ancora più importante perché proprio un segnale di fiducia e di tutto quello che il mondo nel suo insieme sta guardando con grande interesse allo sviluppo di bitcoin mentre che parlavo come vedete è passato qualche minuto siamo già a 44 138 140 quindi la tendenza ovviamente grafica adesso la possiamo vedere più in più in uno specifico come vedete ecco i volumi stanno aumentando in maniera importante su su bitcoin e sicuramente questo cambiamento vocale che ha proposto satoshi nakamoto come ha ripetuto diverse volte nei miei video e mi fa proprio piacere poterlo continuamente ripetere perché è un cambiamento epocale che veramente potrà fare la differenza nel concepire un sistema monetario libero dipendente da governi da sistemi finanziari eccetera e nella proprietà nella disponibilità di ognuno di noi e non mi resta ovviamente che ringraziarvi dell'attenzione vi auguro una buonissima giornata se c'erano qualche dato importante se la mia cura aggiornarvi nuovamente una giornata a tutti a presto Tamam No 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 No